Ciao a tutti oggi prepareremo la crema tipo mumu. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero, semi di una stecca di vaniglia, farina, latte, uova e cacao amaro. Andiamo via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero, i semi della stecca di vaniglia, la farina e polverizziamo per 20 secondi a velocità 7. Prendiamo sul fondo del boccale Adesso aggiungiamo il latte e le uova. Facciamo cuocere per 7 minuti 90 gradi, velocità 4. A questo punto trasferiamo metà della crema in una ciotola. Dopo aver trasferito una parte della crema nella ciotola, riposizioniamo il boccale, versiamo il cacao all'interno e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 4. La crema al cacao è pronta, trasferiamola in un'altra ciotola. Le creme sono pronte, adesso andremo a formare la crema tipo mumu. Prendiamo un bicchierino, iniziamo a posizionare un cucchiaino di crema al cioccolato. Prendiamo un altro cucchiaino, prendiamo la crema bianca, e alterniamo un cucchiaino di crema bianca e un cucchiaino di crema al cioccolato. e proseguiamo così fino al completamento di tutti i nostri bicchierini. Crema mumu, grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!